Vediamo un po' la strategia Ok, questa qui mi direi che sta bene Giro di formazione Ci siamo, il grambino sta per partire Cerchiamo di stare attendo alla prima curva Grazie Virtual safety car, virtual safety car Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde Il regime di virtual safety car sta per terminare, attenti la bandiera verde Grazie Ahia E no, dai Dai, però Prologo Safety car in pista, è entrata la safety car Raggiunge il gruppo ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta ok rientriamo e mettiamo le gialle sono solo 3 giri fatti quindi penso che nemmeno le bianche arriverebbero a fine gara tanto vale mettere le gialle e poi rimettere di nuovo le rosse ma ci sono dei pezzi in mezzo alla strada cioè ci fa ripartire la corsa con i pezzi in mezzo alla strada dai restate attaccati a quelli avanti rimosse puoi accelerare aumenta l'erogazione delle RS è arrivato il momento di usare un po' della carica due fuori comunque il nostro obiettivo a questo punto è non rovinare le gomme un po' di riuscire è la velocità il delta è troppo basso e rischiamo una penalità rallenta immediatamente buono dai dai che partiamo mangiati dire se consentito dire se consentito facciamo abbassare sperando che ci tire un po' sperando abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul TMS ok 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 che sta succedendo ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.